Oggi ho avuto l'onore di visitare la Scuola Militare di Ziatella di Napoli. È da qui che voglio rivolgere a tutti gli allievi e le allievi delle scuole militari in Italia un augurio per un nuovo anno scolastico appena cominciato. Un pensiero particolare a chi tra poco farà un giuramento, atto solenne, atto da rispettare e a tutti, a tutti voi davvero, buon anno scolastico, bocca a buon ragazzi, forza!